La fuga del boss Rocco Morabito prosegue ed il timore che possa ormai aver abbandonato l'Uruguay per rifugiarsi in Brasile è più che concreto. L'arresto di due dei detenuti evasi assieme al boss dell'Andrangheta lo scorso 24 giugno, fermati nella città di Minas, conferma che una volta evasi dal carcere di Montevideo dove si trovavano rinchiusi, i fuggitivi si siano separati prendendo strade diverse. I due fermati, Sebastiana Costa Gonzales e Bruno Ezequiel Diaz, saranno ascoltati dalla polizia uruguayana nella speranza possano fornire elementi utili a rintracciare Morabito. Lo scorso 26 giugno era intanto stato rintracciato il terzo detenuto evaso assieme al boss, l'argentino Leonardo Abel Sinopoli e Azquaga.